La mostra che inauguriamo oggi cerca di raccontare 50 anni di storia e di vita dell'Università Yulm come se fosse un film, come se fosse un grande racconto capace di coinvolgere e spero anche emozionare il visitatore perché Yulm è una delle grandi università milanesi e una delle realtà che hanno contribuito a fare di Milano una città universitaria e in questo essere città universitaria di Milano Yulm si è caratterizzata fin dall'origine per un'attenzione molto forte all'innovazione. È un allestimento inclusivo che proprio attraverso il racconto vuole creare una relazione col pubblico per raccontare questa identità che è passata attraverso un periodo in cui la comunicazione era da pochi considerata così di valore a un momento storico come oggi in cui è necessario descrivere proprio la qualità di questa comunicazione. Qui c'è un bel mix, fa gli schermi digitali e la grafica ancora tradizionale che si avvale di sfondi di colore molto forte proprio per rendere allegra una situazione che non era facile perché tutti i reperti storici hanno in sé qualche cosa che vista nella congelia di tante altre cose non ha quella forza che invece la capacità di una sintesi e di selezionare può avere.